Ciao a tutti ragazzi dal vostro mascherato, ben ritrovati anche oggi qui sul mio canale nuovo video unboxing a tema Star Wars è la prima figure che unboxo di Star Wars qui sul canale anche se ne avevo presa tempo fa una ma purtroppo ho dovuto vendere quindi è niente, sigla ragazzi e partiamo eccolo qua, il primo arrivo in collezione anche se non è realmente il primo di Star Wars Hot Toys Doll ovviamente ragazzi, bellissima Kylo Ren il protagonista del video dell'ultimo film di Star Wars che era uscito anche se non è recentissimo ormai eccola qua, la parte frontale, laterale e retro della scatola molto molto di impatto la scatola ora ve la farò vedere nei vari passaggi anche aperta e poi ovviamente vi farò vedere la doll che ripeto ragazzi è fatta benissimo questo è quello che andiamo a vedere subito dopo aver tolto il coperchio principale della nostra Hot Toys e poi ovviamente qui ci sarebbe la doll con i vari oggetti che contiene la scatola che ora vi farò vedere singolarmente eccoli qui ragazzi i vari pezzi della nostra doll ovviamente quello che non vedete è montato sulla doll stessa ovviamente vi danno la base con la scritta Star Wars Kylo Ren eccola qui poi vi danno ovviamente il piedistallo per reggere la figure all'impiede anche se con una buona posa non c'è bisogno praticamente di montarlo poi vi danno questa specie di copribase abbastanza carino da poter mettere qui come vedete vedere sulla base in modo da dare un effetto totalmente diverso alla base ovviamente il ricambio per gli snodi delle mani batterie da inserire nel braccio con la spada laser che si accende il braccio è intercambiabile ovviamente poi ovviamente abbiamo il set di mani con i pugni chiusi quelli che servono a reggere la spada di cui uno ovviamente l'ho già utilizzato e quelli che hanno le mani leggermente aperte poi ovviamente ragazzi vi danno almeno questa versione alla doppia testa con lo sculpt di Adam Driver che è praticamente perfetto come potete vedere dal video anzi vediamo se riesco a metterlo un pochettino più alla luce ho toys comunque ragazzi per quanto riguarda lo sculpt è eccezionale potete vedere la doll io ovviamente l'ho esposta col casco che per me è quello che è Loren ovviamente sculpt ragazzi e painting da urlo è uguale all'attore preciso ora ragazzi vi faccio vedere direttamente la doll eccola qui ragazzi la nostra doll montata, unboxata è piazzata praticamente in una posa che almeno a me piace davvero parecchio piccolo giro breve panoramica ragazzi perché mi spavento se crolla visto che non è il piedistallo e non è stabilissimo la base ovviamente ragazzi ricordo marca o toys doll in scala 1 a 6 ovviamente tutta fatta con i vari snodi e i vari abiti in tessuto e pelle che dissi voi ora ve la farò vedere nel dettaglio ricordo che non sono espertissimo di doll ne compro una ogni tanto questa è la seconda tra l'altro che compro di Star Wars perché la prima ai tempi l'ho praticamente svenduta visto che avevo bisogno di cash per poter pagare la sottolanire di Edward e me ne pento tantissimo di averla venduta anzi spero in un futuro non molto lontano di poter comprare la nuova hot toys di Anakin che dovrà uscire di Star Wars visto che Anakin e Kylo Ren sono diciamo i miei personaggi preferiti e niente ragazzi ripeto quindi se non sembro molto esperto in questo settore dico non fatevi una colpa è semplicemente per farvi vedere l'ultimo arrivo che avevo in collezione mi piace ovviamente mostrarveli sempre in video per quando mi arrivano ovviamente comunque passiamo a vederla nel dettaglio eccolo qui il nostro Kylo Ren questa è la posa ovviamente che gli ho dato è come dovrebbe andarsi a vedere ma partiamo subito dal dettaglio dalla base che vi ho già fatto vedere prima ovviamente metto la targhettina sopra che hanno dato in dotazione questo è lo sculpt degli stivali che sono praticamente in pelle molto lucidi ad occhio mettiamo il telefono in perfetto sotto gli stivali sono praticamente lisci quindi non hanno grip per poter reggere se la base diciamo è liscia quindi tra l'altro non hanno un ottimo snodo per quanto riguarda la piega dei piedi come potete vedere essendo praticamente tutto unico pezzo rispetto a quelli di Capitano America che io possiedo ovviamente lì il piede puoi snodarlo praticamente come vuoi l'unico snodo che potete vedere facile è questo di qua che praticamente fa girare totalmente lo stivale saliamo ovviamente ragazzi nella figure è inutile farvela vedere dietro perché ovviamente tutto il mantello è in questo tessuto che tra l'altro è morbidissimo non ha fil di ferro all'interno per poter dare le varie pieghe tranno ovviamente quello del cappuccio qui ai bordi che è l'unico praticamente punto dove puoi dare un po' di piega particolare alla doll i pantaloni non sono larghissimi però hanno un tessuto abbastanza morbido quindi si può dare qualche posa un pochettino più estrema sempre nei nei limiti ovviamente visto che ripeto sono stretti qui ovviamente l'unica parte in pelle vera è la cinta come potete vedere e poi ovviamente qui il mantello come potete vedere all'aggancio diciamo del collo ha delle calamite che sono due bombe perché non ne si niente non riesco più a metterle a fuoco ecco bisogna praticamente tirarle per poterle staccare le calamite qui nel mantello molto bello ragazzi il tessuto del del sopra del busto diciamo di Kailoren qui ovviamente la spada anche questa molto bella nel dettaglio vediamo se riusciamo a inquadrare anche l'altra parte eccola qui molto ben realizzata ovviamente questa non è la parte che si accende ma è l'altra passiamo al tessuto che c'è qui nelle braccia ragazzi bellissimo molto bello il tessuto anche questo molto elastico quindi potete vedere è l'unico punto di piega che ho dato un po' più estrema rispetto al resto della doll qui il guanto nel dettaglio che comunque sia vi avevo già fatto vedere nelle altre nell'altra nell'altra spezione di video vedete anche sporco diciamo del materiale di cui è fatto ma ovviamente ragazzi è semplicemente della praticamente io la definirei gomma e poi ovviamente abbiamo la testa e la doll che ha uno sculpt pazzesco innanzitutto e anche qui mettendo le batterie teoricamente al buio si dovrebbe accendere la testa anche qui ripeto ragazzi lo sculpt nel dettaglio dell'elmo di Calorren è pazzesco e poi abbiamo sotto l'elmo un pezzo praticamente di tessuto che va a collegare il sottogiacca con l'elmo in modo da non far vedere troppo lo stacco questa ragazzi ripeto è la posa che io ho dato alla doll che mi piace davvero tanto non è molto estrema ma raffigura diciamo la prepotenza del personaggio e niente ragazzi adesso vi farò l'ultima breve panoramica del nostro Calorren e poi chiudiamo eccola qui ragazzi di nuovo Pernesi volta ultima panoramica della nostra doll sperando che non mi crolli vi ripeto ragazzi non sono espertissimo di doll quindi ho cercato semplicemente di farvi vedere il pezzo che ho comprato nel miglior modo possibile non sono neanche un fan degli snodi particolarmente a questa soprattutto doll non si notano praticamente visto il nero e i tessuti per come sono fatti non c'è troppa pelle come i Capitano America che ho in collezione quindi le pose erano molto più fattibili rispetto alle altre chiedi ragazzi spero comunque se vi sia piaciuto come vi ho mostrato Calorren ripeto o Toys da ogni scala 1 a 6 l'ultimo film ovviamente di Star Wars e niente ragazzi come sempre vi invito a iscrivervi al canale attivare la campanella da Calorren è tutto anche da me al prossimo video per la campanella